Dottor Gaetano Fabroncini, direttore generale Roca Italia, il vostro motto è verso il futuro? Sì, il nostro motto è verso il futuro proprio perché la mission di Roca, la mission essenziale di Roca è quella della ricerca dell'innovazione abbinata anche ad un design accattivante e quindi con l'innovazione andiamo verso il futuro per cercare di soddisfare sempre di più e sempre meglio le esigenze delle nuove generazioni e soprattutto le esigenze della conservazione della specie mi consenta di dire così e di fare questa affermazione. Con il design, a volte anche piuttosto spinto, andiamo verso il futuro e quindi verso un qualche cosa di diverso che però parte da una storia. Ma la nuova tendenza del design si collega a qualcosa? Beh, la nuova tendenza del design secondo gli studi che noi facciamo e le ricerche che noi facciamo si collega soprattutto con le nuove necessità che sono quelle di occupare degli spazi nel minore spazio possibile, scusate la ripetizione della parola, e quindi di occupare minori spazi possibili con delle linee che possono essere decisamente marcate sia nel rotondo che nello squadrato. C'è un filo conduttore nelle collezioni Roca e ci sono delle nuove tecnologie nell'uso dei materiali e nella lavorazione di questi materiali. Sì, direi proprio di sì. Intanto il filo conduttore è quello che ci consente nell'utilizzare al meglio i nostri prodotti e anche di ottenere dei risparmi, dei risparmi idrici e di conseguenza dei risparmi energetici. Abbiamo già tre prodotti che si collocano in maniera esatta e in maniera sufficientemente applicativa in questo segmento di mercato. Abbiamo il WWW che ci consente un risparmio di circa il 70% dell'acqua che viene utilizzata perché è un blocco unico nella parte superiore lavabo. L'acqua che viene utilizzata per sciacquarsi le mani o il viso viene raccolta in una vaschetta che viene poi utilizzata nel momento dello scarico del water. In questo caso abbiamo ottenuto con un design molto morbido, lineare, accattivante abbiamo ottenuto anche un qualcosa di tecnologicamente valido ed avanzato. In più una novità della fiera dove abbiamo proposto la Inside Meridian che è un vaso all'interno del quale c'è la sua cassetta di scarico. Non utilizza naturalmente l'acqua di ricircolo come il prodotto precedente però vista proprio la vicinorietà della cassetta e dell'acqua ne serve meno per poter ottenere nello scarico del vaso lo stesso risultato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.